allora chiudo qui la tornata veramente di recensioni metal che ne ho macinato parecchio tra ieri e oggi ieri i fondamentali metallica e vi raccomando andate a vedere quelle recensioni ma non per fare un piacere a me ma per fare un piacere a voi perché la ho cercato di spiegare disco per disco i primi quattro capolavori ecco non è che io ci tengo ai like ma ci tengo che voi ascoltiate un magari un giudizio critico che è leggermente diverso da giudizi critici mainstream di critici metallari che in genere non capiscono una ceppa ecco ora non è che io mi sento superiore al loro però mi sento superiore al loro ecco quindi magari dategli un ascolto idem con patate stamattina con gli Iron Maiden che ho recensito il primo album insieme live quello poi antologico anche quello ascoltatelo perché il primo disco degli Iron Maiden è fondamentale ora presento altri due dischi fondamentali del metal anni 80 che hanno proprio creato un genere allora inizio subito con i Venom che sono ormai considerati un po da tutti i progenitori proprio del black metal infatti questo disco qui a sinistra che vedete che è il loro secondo album dell'82 si chiama appunto black metal chiede proprio il là al genere e loro si formarono a Newcastle nel 79 e erano inizialmente influenzati dai moto red loro abbracciarono però già dal primo album welcome to hell dell'81 sì delle influenze moto red ma molto più scure più non tanto più veloci ma quanto più darcheggianti e soprattutto con del satanismo dentro satanismo probabilmente vero cioè nel senso loro dicevano che era un po' anche una presa pubblicitaria ma questo non lo so poi allora erano in tre avevano degli pseudonimi il cantante si faceva chiamare Kronos quindi Tempo gli altri pure dei nomi un po' sullo pseudo greco in questo forse un po' pretenziosi però su questa etichetta d'avanguardia di metal dell'epoca che era la Nanite uscirono cose diciamo che della new wave o bridge of heavy metal tra le cose più interessanti e comunque la punta di chiamante erano i venom allora welcome to hell è già un ottimo disco però è più appunto legato allo stilema moto rediano con questo disco qui tutto nero dell'82 proprio si definirono le coordinate del black metal e questo qua adesso vi vado a leggere ovviamente la track list perché io non mi ricordo mai niente ce l'ho qua ecco allora inizia subito proprio con l'anthem black metal che insomma dice tutto è proprio il primo pezzo black metal della storia poi si va avanti con to hell and back body of the life un altro classico loro dal vivo raise the dead teacher's pet che praticamente ha un testo abbastanza anche un po' sceno perché parla vabbè non vi faccio la traduzione cosa fa uno studente sotto il suo banco mentre la professoressa spiega ma penso che avete capito leave me in hell quindi lasciami in inferno sacrifice heavens on fire e soprattutto countless battery e questa countless battery che è uno dagli altri assi del black metal inventato da loro diede proprio il nome al gruppo battery che prese ispirazione proprio non solo musicalmente dai venom ma anche proprio anche il nome del gruppo i battery e battery almeno un paio di dischi classici ce li hanno il primo è uno del 89 90 uno degli ultimi che è forse quello più diciamo sì non solo suonato meglio ma anche forse meno derivativo dallo stilema dei venom quasi quasi un pochino più progressivo però loro comunque sono stati importanti nello sviluppo del black metal non proprio fondamentali al cento per cento ma importanti sono comunque più importanti di venom poi c'è don't burn the witch quindi non bruciare la la strega sopra ovviamente il rogo e out to burn with seven preview qui c'è praticamente una sorta di spot radiofonico per il disco successivo in questa distampa della castle del concept album che si chiamava at war with satan in cui tutto il primo lato era un concentrato questo era all'avanguardia e per l'epoca un concentrato di stilemi gotici e black metal la copertina era una sorta di parodia della bibbia chiaramente in chiave blasfema cioè proprio la copertina con la copertina di pelle però le pezzi da 90 uscirono su 12 pollici e soprattutto sui singoli che stanno fortunatamente come bonus tracks in queste distampe della castle che sono anche ben rimasterizzate nel 2002 bursting out poi c'è nightmare die hard acid queen soprattutto e c'è anche poi qualcosa della session di john peele too loud for the crowd questo è un inedito anche nightmare è una versione alternativa per john peele bursting out e hounds of hell che praticamente riprendono i loro classici però fatti da per la trasmissione di john peele ma soprattutto insomma ci sono quei 12 pollici che sono essenziali perché non stavano nell'album ed erano solamente usciti come 12 pollici poi invece a destra vedete il primo mini lp il primo ep dei merciful fate che erano poi i venom danesi e loro si formano appunto sulla scia del successo dei venom questo è un ep di quattro pezzi corpse without soul cosiddetto o solamente merci for fate però sarebbe corpse without soul c'ha solo quattro pezzi dura una ventina di minuti ed è considerato una pietra miliare appunto del primo nascente black metal qui le influenze dei venom vengono ancora più accentuate in maniera dark ancora più darkeggiante avevano un cantante luciferino come pochi altri king diamond che poi dopo lo scendimento dei merci for fate fece proprio il suo gruppo king diamond e proseguì su una sorta di black metal leggermente più accessibile un po' più mainstream e dopo di questo album questo qui che però è superiore all'album melissa che è quello che fu stampato da roadrunner quindi a livello internazionale europeo internazionale questo no era invece solo di importazione poi è stato ristampato in america dalla metal blade e i quattro pezzi qui dentro contenuti sono delle gemme effettivamente del dark sound del black metal più veramente satanico satanista fateli conto come dei black widow che citavo prima di sacrifice che suonano insieme ai venom avrete un'idea di quello che cos'è questo disco qui dura pochissimo che sono solamente quattro pezzi è un disco che è stato poi rivalutato a posteriori anche perché non ha una registrazione poi perfetta però influentissimo sulle generazioni poi successive del black quindi anche dei gruppi anni poi 90 anche se quelli hanno estremizzato e chiaramente i maia e hem gli immortal i dark throne my time bride quelli anche più progressivi gli anatema e questi qui insomma loro in nuce avevano tutto soprattutto avevano poi un make up abbastanza un po' kitsch pacchiano leggermente che potesse assomigliare a quello dei kiss ma la musica non c'entrava niente quei kiss era solamente una trovata scenica e e King Diamond veramente aveva questa voce stridula e loro poi penso che fossero veramente abbastanza addentro a cose esoteriche ossianiche sataniche e già qui insomma la copertina è abbastanza eloquente poi questa è quella originale perché poi questo qui non è stato non è è stato fuori catalogo in un sacco di tempo si è trovato in un cd della Roadrunner che però mi ha strizzato malissimo che si chiamava In The Beginning poi fortunatamente nel 2020 la Metal Blade ha ristampato tutto il catalogo rimasterizzato e c'è questo come Melissa come i dischi di King Diamond però ecco questi sono due capisaldi proprio del primo nascente Black Metal e sono dischi da avere perché da qua è nato tutto quel genere lì e anche l'Avantar Metal che ascoltiamo noi anche da New Order Tongues a tutti gli altri gruppi che vengono dopo e comunque hanno attinto da qua che vengono dopo che vengono dopo che vengono dopo